In quest'area che era abbandonata fino a qualche giorno fa e grazie alla protezione civile regionale abbiamo potuto allestire un centro organizzato alla perfezione con personale motivato, personale sanitario, con l'impegno dei volontari. Ed è per questo che voglio ringraziare il capo della protezione civile Salvo Cocina e il sindaco di Catania Salvo Pogliese per averci messo a disposizione il locale. Dopo Palermo e Catania le altre sette città capoluogo nei prossimi giorni. Naturalmente noi siamo pronti per la somministrazione del vaccino e il vaccino che deve arrivare perché da Roma ancora non arrivano buone notizie e Roma le aspetta da Bruxelles come sapete. Se tutto dovesse scorrere liscio noi potremmo entro l'anno uscire da questo tunnel di questa epidemia maledetta che ha condizionato e continua a condizionare la nostra vita.